Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo all'aeroporto di Catania, quindi sono in Italia. Questo video sarà articolato come il precedente in due parti, cioè la parte in Cina e la parte in Italia. Vedremo una cosa molto particolare, ovvero il baguan, ovvero la colpettazione, che è una tecnica di massaggio, una terapia medica cinese, che viene attuata solitamente sulla schiena, creando dei simboli, delle chiazze rosse sulla schiena, ed è una tecnica che, secondo la medicina cinese, riesce a attenuare le infiammazioni del corpo. Quindi per prima cosa vediamo tutto il processo e poi la reazione dei miei parenti in Italia, anche degli amici, vediamo come reagiscono. Ho già la ista pronta, mi hanno portato un po' di frutta e una bottiglietta d'acqua. Ho un po' di frutta. Queste qui sono le copertien, questo è il baguan. Doi, baguan è un po' di frutta. Ma che è un po' di frutta, è un po' di frutta. Questa è una cosa che si chiama il baguan. Ho, un po' di frutta. Doi. Ok, questa è la messa sulla mia schiena con l'acendino. Ho害怕. Ho非常害怕. Ho害怕, non ho fatto la mia schiena con l'acendino. Ah, io. È un po' di frutta. Non ho capito, non ho capito. In realtà non ho capito. In realtà non ho capito. È un po' di frutta. È un po' di frutta. Inoltre per quanto tempo? 30 minuti? Non lo so, non lo so. Non lo so. Non lo so. Posso? Posso. Posso? 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 questo la malattia è stato iniziato questa la malattia è l'acqua quando la malattia è stato iniziato ora voglio fare cosa? cosa cosa faccio? ogni volta che vengono, ti Welli pensavo? Ti stai senti a me? Grazie, la mia notizia. Io andai con te, le vedo. Ma non è inattima, non? Non. Quindi, adesso non puoi, non puoi洗ire. Ma non puoi? Ma non puoi. Non puoi aver mai sentito, la mia prontata è. Non puoi. Perché? e . . . Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.